Eccoci qua. Ed ora, sai che cosa dobbiamo fare? Cosa succede ora? Cosa l'è? Cosa l'è? Allora, adesso... Ho perso la scaletta. Perché? Ma non ce l'abbiamo mai una scaletta. Ma non c'è una scaletta. Sì, per salire e per scendere. Noi siamo sempre senza scalette. Certo, noi siamo veramente... Abbiamo Banissa che ci salva. Abbraccio. Ci salva Banissa certe volte. Meno male. Allora, vogliamo lanciare la sigla del nostro talent? Eh, andiamo. Sigla? Senti, un applauso per la nostra bellissima Banissa, la signorina Buona Sera, la nostra indossatrice. Allora, questa sera in giuria abbiamo come presidente di giuria Paolo Baramani, Benny Di Zaggio, Ludovico Minchella e Grazia Guerra. Bene. Grazie, Vanessa. Ogni settimana, più bella e più brava. Grazie, Vanessa. Grazie.